Un'aggressione di nuovo nella piazza Umberto I di Sala Consilina. Per petrarla sarebbe stato lo stesso uomo che qualche giorno fa aveva assalito il proprietario del Lilo. Proprio mentre il dibattito sulla sicurezza nel centro storico di Sala Consilina si infiamma di considerazioni e si arricchisce dell'intervento dell'amministrazione comunale pronta a sottolineare l'azione delle istituzioni, una nuova notizia mantiene i riflettori accesi sulla situazione. Questa volta il cinquantenne di Sala Consilina ha agito contro la sua compagna nella notte tra mercoledì e giovedì, aggredendola fisicamente e finendo per danneggiare anche una delle auto parcheggiate nella piazza. Una nuova escalation di violenza, tutto sarebbe avvenuto nel cuore di Sala Consilina sotto gli occhi degli avventori del bar e della gente presente a quell'ora in zona. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti e hanno messo le manette e i polsi dell'uomo che è stato trasferito nella casa circondariale di Potenza. Nei giorni scorsi la chiusura del Lilo era stata l'occasione per porre l'accento sugli episodi violenti sempre più frequenti nel centro storico, scatenando una domanda di sicurezza e di attenzione a causa della paura crescente di trovarsi nella piazza Umberto I soprattutto nelle ore serali. Ora l'ultimo episodio con la risposta delle istituzioni.